Sì, sapevamo che oggi non sarebbe stata certamente facile perché gioiosa Ionica rappresenta la seconda forza di questo campionato, ha dalla sua anche la miglior difesa di questo campionato e oggi si è visto tutto. Detto questo noi siamo partiti a mio avviso bene, riuscivamo a fraseggiare bene e comunque a tenere anche il campo per la prima parte del primo tempo. Poi sul finale di questo primo tempo abbiamo avuto la sfortuna su una ripartenza di subire il gol e una volta che abbiamo chiuso sotto questa partita, poi con questo gioioso Ionica che in fase di non possesso concede quasi nulla, sarebbe stato complicato poter riadrezzare questa partita. Ciò nonostante ci abbiamo provato, però il secondo tempo secondo me rispetto al primo siamo calati, il gioioso Ionica ha fatto vedere qualcosa di meglio rispetto a noi. Poi su un'ennesima ripartenza a metà del secondo tempo circa l'hanno chiusa col secondo gol. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, a dire il vero questa partita non è stata caratterizzata da grandi conclusioni in porta, a netto del gol del gioioso Ionica. Poi sul finale Ferrari ha avuto due olimpissime occasioni che forse sarebbe servita anche a poco, comunque c'era poco tempo ormai. E quindi niente, onore al gioioso Ionica che è riuscita a confermare la sua forza anche su questo campo. Noi questa sconvitta la digeriamo abbastanza bene, sapevamo che dinanzi a noi abbiamo avuto una grande squadra. Rimane certamente intatto il percorso che noi abbiamo fatto e adesso che mancano sette partite, credo, non vorrei sbagliare, da quella che viene il campionato, cercheremo di conquistare quei punti che ci possano portare nel più breve tempo possibile a una salvezza. Grazie a tutti!